Giacomo Pascale, dal riesame arriva un'altra notizia confortante. Era comunque uno snodo significativo il fatto che l'autorità giudiziaria confermasse il sequestro del porto? Innanzitutto viene riconfermato che la gestione del subcongestionario sostanzialmente era una gestione senza titolo. La riconferma del sequestro chiaramente adesso ci mette nella condizione innanzitutto di aspettare le motivazioni che hanno spinto il riesame ad applicare questa disposizione. Dopodiché chiaramente si apre una pagina nuova. Una pagina nuova che inevitabilmente dovrà cercare anche di far sì che la struttura poi possa essere dissequestrata, possibilmente prima dell'estate. Ma oggi questa è la priorità. Oggi la priorità consiste nell'accelerare le procedure e soprattutto in prospettiva del non perdere l'estate perché ne va dell'economia dell'intero territorio. Chiaramente in tutto questo registriamo quello che abbiamo sempre sostenuto. L'auspicio mio qual è? L'auspicio è che finalmente possa prevalere l'interesse pubblico e quindi avere un'attenzione verso la cosa pubblica, verso la comunità intera che di fatto come sapete ne sopporta i costi, sopporta gli oneri. E nello stesso tempo avere la collaborazione istituzionale degli enti preposti attesa proprio la gravità e l'importanza di questa prima, che ricordiamo è la prima infrastruttura del Paese. Intendo dire mi aspetto una collaborazione istituzionale con grossa sensibilità da parte della Procura in primis, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, di tutte le forze dell'ordine che possono dare una mano in questo momento devono stare vicino al Comune di Lacquameno perché il Comune di Lacquameno ha la necessità anche alla luce delle vicissitudini e dei problemi che già vive di far ripartire questa struttura. Dicevo, l'auspicio mio è che per una volta possa finalmente prevalere l'interesse pubblico. Questo è l'auspicio, ragionevolmente quanto c'è da essere ottimisti? Io sono stato sempre ottimista, la mia frase che avete più volte anche criticato piuttosto che commentato con una punta di riunia, io ho sempre detto troveremo prima o poi un giudice a Berlino, cioè noi abbiamo un provvedimento che ha sancito qualora ce ne fosse bisogno che la gestione di fatto era senza titolo e non da adesso, attenzione, era senza titolo dal 2022, quindi c'è già l'estate 2022, l'estate 2023 che praticamente sono due anni dove è stata gestita. Quale soddisfazione? Non c'è soddisfazione, c'è preoccupazione, c'è apprezzione, ma nello stesso tempo c'è senso di responsabilità per provare a immaginare un futuro possibile che sia un futuro soprattutto che dia lustro di nuovo nella nautica all'acquamino e soprattutto che dia ristoro anche alle casse del comune che tra l'altro, come dicevo, noi paradossalmente ad oggi, ancora ad oggi, il pubblico sopporta i costi e il privato continua di incassare. Ha sottolineato che non c'è da cantare vittorie, però probabilmente qualche ringraziamento non può mancare. No, innanzitutto il ringraziamento mio dall'amministrazione comunale, ai nostri legali, all'avvocato Vignola, all'avvocato Bruno Molinaro, all'avvocato Nicola Patalano, a quante si stanno occupando di questa questione perché, come dicevo prima, per noi è una questione di rimenti, è una questione anche di poter avere possibilità poi di incassare soldi come ente per ridistribuire questa ricchezza.